Io sono onorato del vostro consenso e della vostra stima, sono onorato anche perché siamo ad Oristano. E sì, perché erano vent'anni che il Foro di Oristano non aveva la presidenza dell'ordine regionale. Era la fine degli anni 90 e fu Luigi Greco a ricevere l'incarico. Ieri invece è stato il turno di Antonello Spada con i due vice Aldo Lucchi presidente dell'ordine di Cagliari e Giuseppe Conti presidente dell'ordine di Sassari. Il mio intendimento è proprio quello, far dare gambe a questo organismo e farlo tutti insieme. Siamo aperti all'apporto di tutti, di tutti i colleghi, di tutti coloro i quali vogliono dare consigli, suggerimenti per migliorare praticamente la nostra vita di avvocati. Grazie Grazie.